Ciao, sono la delegata dell'Alpa di Foggia, questo è il primo carico destinato ai cagnolini della zona industriale e del rifugio, qualche altro cagnolino che poi vedrete, insomma faremo le nostre soste. Ecco, questo è il primo carico di cibo, boccandini, siamo anche con acqua e tutto il resto, quindi siamo subito pronti per partire, quindi adesso vedrete l'emozione dei cagnolini quando vedranno tutto questo bel cibo, ovviamente al menacolo. A dopo.